Addio Franco Di Mare, una vita per il giornalismo, inviato a Rai di guerra in tutti i teatri del mondo, il cordoglio dei vertici Rai. Buonasera a tutti voi dalla TG1. Poco tempo fa l'annuncio shock in diretta televisiva di essere vicino alla fine della vita per un mesotelioma aggressivo. Oggi Franco Di Mare ci ha lasciato, aveva 68 anni, grande inviato Rai, ha attraversato le più importanti crisi internazionali, ha condotto programmi di successo, volto amato dal pubblico, lascia la moglie ed una figlia, il cordoglio di tutti noi, dei vertici Rai e della politica. I servizi sono Di Emma D'Aquino e Chiara Romanello. Lo era e come Franco, diretto, senza giri di parole, arrivava dritto al punto. Il suo racconto attraversava il fatto di cronaca per arrivare ad una riflessione su valori per lui imprescindibili, diritti, etica, valori sociali, impegno civile. Diciamoci la verità. E' stato tante cose, Franco Di Mare, come lui stesso diceva, ha vissuto tante vite, tante quante ne ha raccontate nella sua lunga carriera di giornalista e inviato. Il Rai arriva nel 1991, i suoi reportage dalle zone di guerra hanno fatto scuola. Racconta la sanguinosa guerra nella ex Jugoslavia ed è a Sarajevo quando, documentando la vita dei bimbi di un orfanotrofio, incontra gli occhi di una bambina di dieci mesi, la chiamerà Stella e la adotterà. Inviato speciale nella prima e nella seconda guerra del Golfo e ancora Afghanistan, America Latina, impossibile elencarli tutti, impossibile elencare la quantità di documentari e dossier geopolitici. E poi per tanti anni, volto di uno mattina, è lì che è l'intuizione della rubrica Sarò Franco che si rivelerà vincente non solo per gli ascolti. La sua posta Rai raccontava era stracolma di mail di denuncia, ne farà anche un libro. Non solo un collega, ma soprattutto un maestro per tanti di noi, anche per il suo impegno contro l'illegalità e le mafie con Palermo Chiama Italia, in ricordo di giudici Falcone e Borsellino. Frontiere, l'ultimo programma Rai e poi, un mese fa, l'annuncio di essere malato e di avere poco tempo. Lo abbiamo stimato, Franco, gli abbiamo voluto bene. Ci rivediamo, qui o da qualche altra parte. Il portico per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, sempre in campo per raccontare le emergenze e le storie di riscatto. Il cordoglio delle istituzioni, anche dai rappresentanti di Camera e Senato, Fontana e Larussa. Il ricordo di competenza, serietà e passione. La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, affermano i vertici dell'azienda, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera. Franco è stato uno straordinario professionista ed è una persona che ricordare da tutti come una persona garbata, elegante, gentile, disponibile e sempre vicino ai colleghi e alle persone che lavoravano con lui, dandogli la possibilità di crescere anche professionalmente attraverso il trasferimento della sua sapienza. Addio a Franco Di Mare, inviato di guerra, conduttore e dirigente. Aveva 68 anni, il ricordo dei vertici Rai e la commozione dei colleghi del Tg2 con i quali ha lavorato. Buonasera, bentornati al Tg2. L'addio a Franco Di Mare, inviato speciale, conduttore, dirigente Rai e per noi del Tg2 indimenticabile collega della redazione esteri. Erano gli anni della guerra nei Balcani, aveva 68 anni ed era ammalato di un mesotelioma dovuto all'amianto come ha raccontato qualche settimana fa in tv. Il cordoglio di tutte le istituzioni e noi lo ricordiamo con i servizi di Chiara Prato e Fabio Chiucconi. A te la linea Franco. Sì, buonasera, siamo qui proprio all'esterno del Quirinale, come dicevi. C'è solo una cosa che Franco ha amato più del giornalismo, sua figlia Stella. L'aveva strappata a un orfanatrofio di Sarajevo che non aveva ancora un anno durante una delle sue missioni in uno dei tanti luoghi di guerra. Amore e morte. Proprio da inviato di guerra ha respirato quel lamianto che poi lo ha ucciso. Lo aveva raccontato lui stesso non tanto tempo fa a Fabio Fazio col fiato corto per colpa del mesotelioma. Non bisogna buttarsi giù. Franco era prodato i Rai all'inizio degli anni 90, proprio qui al Tg2. Bosnia, Medo Oriente, Kosovo. Poi aveva continuato a raccontare le crisi internazionali al Tg1. Il suo volto sorridente era, in anni più recenti, diventato familiare come conduttore di tanti programmi Rai. Non bastano tutti i libri che ha scritto per raccontare chi era. Non c'è riuscita nemmeno una fiction di qualche anno fa. Napoletano, classe 1955, appassionato e generoso, elegante, curioso e affamato di vita. Soltanto ieri, già gravemente provato dalla malattia, ha voluto sposare Giulia, la compagna dei suoi ultimi otto anni. È morto abbracciato dall'affetto della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello. Era davvero tanto facile volergli bene. Nascevano da foglietti improvvisati, reportage di Franco Di Mare. Foglietti trovati un po' ovunque, perché quando Franco faceva l'inviato di guerra, non c'erano ancora i tablat. Per un Tg, avere un giornalista come Franco, voleva dire arrivare prima degli altri e arrivarci meglio degli altri. Nel reportage fatti da lui, vedevi il mondo con gli occhi puliti e semplici dell'uomo curioso, dell'intellettuale che sapeva sporcarsi le scarpe e del suo sapere ne faceva collante per interpretare i fatti. Franco sapeva ascoltare tutti, i grandi del mondo ed i più emarginati. L'inviato di guerra è un mestiere particolare, nessuno glielo aveva insegnato, eppure lui è diventato un maestro nel sapersi muovere e raccontare gli scenari più insanguinati del pianeta. E quando Franco scriveva, la sua penna volava leggerissima sui drammi del mondo, perché in quella penna c'era sempre cuore e anima, e lo sa bene chi lo ha conosciuto. Chi come me ha avuto il privilegio di lavorarci per anni insieme, condividendo la paura della guerra, ma anche vivendo insieme infiniti momenti di gioia. Ciao Franco, rimarrai per sempre un maestro. Il ricordo e la commozione dei vertici Rai, la scomparsa di Franco Di Mare, è per la nostra azienda motivo di, per la quale si è sempre speso, con passione e professionalità, motivo di grande dolore. Scrivono la Presidente Soldi, l'amministratore delegato Sergio e il direttore generale Rossi. A lui sottolineano la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera, che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente e nei ruoli dirigenziali ricoperti. Alla famiglia di Franco Di Mare, il cordoglio e la vicinanza della redazione del Tg2. E' morto a 68 anni Franco Di Mare, raffetto da mesotelioma, giornalista, conduttore, direttore di Rai 3, per anni inviato di guerra, aveva adottato la figlia a Sarajevo. Buonasera dal Tg3, un volto amato dal pubblico. E' morto Franco Di Mare, aveva 68 anni, ha contribuito a scrivere un pezzo di storia della Rai. Il mese scorso aveva annunciato di essere affetto da un mesotelioma inguaribile conseguenza del suo coraggioso lavoro di inviato negli scenari di guerra. La sua scomparsa emotivo di profondo dolore, il cordoglio dell'azienda, lo ricordiamo nei servizi di Jacopo Cecconi e Alessandra Bortoloni. Entrò in Rai dall'Unità, arrivando a Roma da Napoli, Franco Di Mare, e cercò subito di fare la differenza. Eccolo, il look è diverso da quello con cui poi è diventato famoso, lo scrupolo e la capacità narrativa sono già inconfondibili. I reportage sulla criminalità organizzata all'estero, oltre che in Italia, poi la scoperta della grande vocazione, i teatri di guerra. Gli abitanti di questa città che temono da un momento all'altro un attacco con armi chimiche. L'Iraq, il Centro America, l'Africa, poi soprattutto i Balcani, sempre professionale, mai distaccato, le tragedie altrui sono le sue. Quando chiude la carriera da inviato, diventa conduttore, storica questa scena a uno mattina. È una data importante. Sì. Compete 30 anni di trasmissione. Vero. E buon lavoro. Grazie, santità. Ma è anche appassionato e apprezzato direttore di rete, Rai 3. Una vita dedicata all'azienda e al lavoro in tutti i sensi. Due settimane fa l'annuncio da Fabio Fazio che ha commosso tutti. La polemica poi rientrata con la dirigenza Rai. Io mi sono preso un mesotelioma. Il mesotelioma è un tumore molto cattivo. Di due giorni fa il post con la foto di una corona di rose, il set del matrimonio di Franco con Giulia, sua compagna da otto anni, lo sguardo al futuro, fino alla fine le parole per dirlo, come da titolo del suo ultimo libro, non gli sono mai mancate. Non bisogna buttarsi giù, lo dico, gli ammalati di questo stesso tumore che ho io e si può andare avanti con ragionevoli speranze che ci sia una soluzione e che non sia così lontana. Nei suoi oltre 40 anni di carriera ha raccontato il mondo. Un'avventura che inizia nei primi anni 90, infuria la guerra nei Balcani, di mare viene mandato in quella terra lacerata nel cuore dell'Europa, laddove si stavano commettendo pulizie etniche e crimini di guerra. L'intervento della Nato e l'uso di proiettili all'uranio impoverito solo anni dopo si scoprirà la sindrome dei Balcani con centinaia di soldati ammalati di tumore per l'esposizione alle microparticelle di amianto. Le due guerre nel Golfo, l'America Latina, le presidenziali americane sono solo alcune delle missioni di Franco Di Mare negli anni successivi alla guerra nei Balcani. Quel conflitto atroce che però nella vita del reporter non era solo un passato doloroso. All'età di 35 anni Di Mare si trova a Sarajevo dove un orfanotrofrio è stato appena colpito da una granata. In quello scempio c'era una bimba sorridente di appena 10 mesi che lui prese in braccio e portò via. Stella, sua figlia adottiva. Una storia meravigliosa raccontata poi nella serie Rai L'Angelo di Sarajevo con Beppe Fiorello. E lei chi è? È Marina, la più piccola che abbiamo. Ho provato a cercare qualche famiglia che la prendesse ma non l'ha voluta nessuno. Dietro ad ogni riga che ho scritto c'è lei raccontò Di Mare ogni volta che la guardo camminare libera nel mondo mi commuovo.